Nel giro di pochi mesi è la terza volta che le forze dell'ordine fermano un presunto profugo ospitato in una grande struttura del Veronese di oltre 500 persone che spaccia droga sui bastoni della nostra città, ai nostri ragazzi, ai nostri giovani. È intollerabile che questo avvenga ed è necessario a questo punto che la prefettura prenda in mano la situazione. Il rischio è che non siano più casi isolati ma che ci sia una vera e propria organizzazione che ha reclutato queste persone che hanno tutto il tempo di giorno di fare quello che vogliono di dedicarsi a questa attività criminosa. Noi chiediamo un controllo sull'operato della cooperativa che evidentemente ha perso il controllo della situazione e poi è intollerabile che queste persone una volta arrestate vengano riportate nel loro albergo e con semplicemente l'obbligo di firma e di rimanere nel loro alloggio. Uno viene arrestato, smette di spacciare e un altro subito subentra in questa attività che è intollerabile. È gente mantenuta, ospitata a spese di tutti i cittadini, non può vivere di espedienti e ancora peggio di atti di criminalità che colpiscono la nostra comunità. Noi ci auguriamo che finalmente si decida che un profugo che viene arrestato in flagranza di reato a commettere reati non venga riaccompagnato semplicemente nell'albergo che li ospita, venga espulso per direttissima. Questo è l'unico messaggio che può passare affinché questi episodi terminino, finiscano e vengano finalmente sanzionati da un governo che in questo momento sta perdendo il controllo della situazione e questo tipo di ospitalità diffusa è diventato una vera follia che sta generando anche preoccupante delinquenza sui nostri territori e a danno delle nostre comunità.